Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati in questo nuovo video come avrete letto dal titolo oggi vi faccio un video haul di un sacco di cose ma voglio anche farvi vedere questo che è un nuovo acquisto e praticamente c'è scritto che non si secca mai io trovo faccio un suono bellissimo però a questo punto volevo solo farvelo vedere ha un colore veramente bellissimo e non vedo l'ora di utilizzarlo per altri video ora direi di cominciare perchè ci sono veramente un sacco di cose e quindi nulla, cominciamo subito e prima acquisto vi faccio vedere questo questo è il siero della S.V.L. concentrato riparatore questi li ho presi tutti in farmacia rimbolpante antirughe pelle sensibilizzata, disidratata e niente questo ah carino praticamente viene con la pompettina a parte carino comunque vi farò sapere appunto com'è questo siero poi ho comprato questa che per chi mi ha seguito nei miei vlog praticamente avevo detto che l'avrei voluta provare e infatti ecco l'ho comprata questo l'ho pagata 28 euro in farmacia ha cominciato a piovere fortissimo e praticamente appunto è della Eastin e da qua è una protezione solare però colorata quindi va a uniformare l'incarnato eccetera per chi sa io sto combattendo con queste macchie e quindi insomma la protezione solare è importantissima questa allora eccola qua 28 euro 50 ml un po' cara però questa marca è veramente molto molto buona e è molto liquida appunto e questa ve la faccio vedere ecco basta ok allora questa ha un fattore di protezione 50 e come vedete è così però cioè non è scuro come si vede poi va a uniformare l'incarnato cioè vedete non è che lascia sporco o macchia non fa nulla e quindi il profumo è molto buono sa proprio di protezione solare ho recuperato lo scontrino da dentro la busta e praticamente oddio dov'è? non lo so dov'è? boh raga non si capisce niente su questo scontrino vabbè comunque io ricordo che l'ho pagata 28 euro l'altro siero non ricordo invece e di quello poi vi farò sapere appunto come mi sto trovando se mi piace non mi piace poi proseguiamo con queste semplicissime mollette insomma per capelli queste sono tartaruga di royal beauty molto carine a parte che queste io le utilizzo tanto poi si perdono sempre per casa insomma è sempre meglio averne poi vi faccio vedere questo che è un balsamo ultra riparatore di gerabe io come vi ho detto amo questa marca e niente praticamente questo si può utilizzare ovunque per le mani per la bocca diciamo per le labbra screpolate e niente qua ci dice protegge e lenisce immediatamente la pelle secca e ruvida mentre aiuta a riparare la pariera cutanea contro il geramide essenziale acido ialluronico viso corpo e labbra appunto quindi si può utilizzare ovunque quindi è un prodotto diciamo multiuso che neutro soprattutto che secondo me fa sempre bene tenerlo in casa ecco e appunto qua ci dice che è senza alcol poliogenico senza profumo insomma anche di questa la proverò e poi vi farò sapere come mi sono trovata eccetera e a fine mese farò anche i preferiti del mese e quindi se c'è qualcuno di questi prodotti sicuramente lo ripetremo poi sempre in farmacia ho ripreso l'acqua termale di abena bene bene questa sapete che io la utilizzo tantissimo e niente l'acqua termale ha tantissime proprietà quindi niente se non l'avete vi consiglio tanto di acquistarla non è niente di speciale la possono utilizzare tutti però lenisce molto il viso e a me piace usarla praticamente sempre poi sempre in farmacia ho preso che si sta anche smontando questo cofanetto che è sempre di svr ora ve lo voglio far vedere svr qua ci dice la routine illuminante quotidiana e praticamente io ho comprato la crema che mi ha fatto anche provare bella con la vitamina G e per un posto di luminosità ed è vero mi piace l'ho provata lì in negozio appunto in farmacia e mi è piaciuta molto quindi niente la signora mi ha offerto questo set e ci sono due omaggi quindi benissimo un'ampolla B3 per un'idratazione intensa più 33% pelle rimpolpata poi la crema quindi con probiotici eccetera e in più una pelle per una pelle tonica e compatta questo campioncino qua pelle rimpolpata in un mese ideale come trattamento quotidiano per migliorare l'elasticità cutanea e applicare qualche goccia di quello prima della crema abituale bene curiosissimo ovviamente di poi ho preso questo gel per contorno occhi di l'Iraq vuoi trovare la scritta in italiano anti-età idratante gel occhi idraleficante atteno alle rughe da disidratazione anti-borsan tocchiai e idratazione a lunga durata qua questo c'era anche lo sconto del 40% quindi top questo è anche molto bello, proprio il packaging rosa vedete questo ha la rotellina qua e qua riesce tutta la crema e con questo appunto si va a massaggiare qua ma è carina, è molto fresca molto bene, ora questo è un po' profondo però con gli acquisti della farmacia in ito vi faccio vedere secondo me degli omaggi miseri perché guardando lo scontrino tra tutto sono 150 euro, 149 per cui onestamente solo questi due affari mi sembra un po' pochino anche perché ci compriamo sempre però non mi sono lamentata con nessuno, solo con voi in questo momento allora qua possiamo vedere il campioncino della crema della cerafe che io tra l'altro ho già però va bene per portarla in viaggio oppure se si sta poco oppure non lo so per tenere insomma questa crema, questa crema la conosco già ecco guardate quanto è caruccia mignon proprio questa è buonissima, una crema idratante neutra che non fa problemi insomma non fa venire nemmeno le bolle per dire cioè io con molti creme idratanti praticamente mi andavano a costruire i pori e quindi mi uscivano delle bollicine piccole piccole sotto pelle invece con questa no quindi è molto buono soprattutto prima di truccarsi perché la sciala pelle molto molto liscia e quindi pronta al trucco secondo campioncino nemmeno lo apro comunque è un fluido anti imperfezioni e protezione solare e non mi piace l'ho già avuto non mi piace per niente lascio la pelle tutta granulosa fa sudare come protezione non mi piace affatto quindi niente questo ma resterà qua ora passiamo agli acquisti che ho fatto al cat una una catena che sta qua dalle mie parti di insomma prodotti per l'igiene personale eccetera allora ho ricomprato questa che è la tinta per capelli questa è un nero la dovrei fare a mia madre io l'ho onestamente sono rimasta traumatizzata non mi piace quindi niente io non la riparò questa è della marca contatto ed è molto buono soprattutto per i colori di questa da quando quando mi piace rossa anni fa appunto comprai vari rossi e mi piaceva molto quindi ho voluto prendere il nero solitamente per il nero come vedete numero uno nero classico non cerco marche in particolari ecco poi vabbè ovviamente l'ossigeno perché quella era soltanto la crema quindi l'emulsione ossidante e poi sempre appunto il cut della loro marca però sicuramente ve lo farò sapere insomma se è una buona tecnica per insomma non fare la ceretta su alcune parti ecco è composto molto bene qua ci sono le bustine dei coloranti una spatolina che ha la sua vaschetta e la spatolina c'è un vento pazzesco oggi bene bene dentro questa busta ci sono altre cose per la cura personale ma che ho preso il gonad come già vi ho detto in vari video io amo il gonad faccio sempre spessata perché ci sono un sacco di offerte comunque vedrete un sacco di assorbenti eccetera perché in sono rimasta traumatizzata a me in 22 anni di vita non mi era mai successo di non avere assorbenti a casa non so per quale motivo ero convinta convinta di averne a casa e non ne avevo quindi immaginate il trauma era pure tardi quindi va bene fatto sta che oggi ho comprato un sacco di cose così almeno ce le ho e basta e allora per chi avessi un CAD tra due giorni c'è l'offerta su questi a parer mio sono gli assorbenti migliori in commercio onestamente non ne ho provati tantissimi però almeno di Liness questi sono bellissimi proprio tant'è che io avevo smesso di utilizzare questo insomma tipo di metodo con l'assorbente passando a solo Tampax perché non mi piacevano proprio gli altri davano fastidio li sentivo troppo addosso facevano proprio schifo come cosa senza non mi piaceva ho trovato invece capra di mia sorella questi insomma ero così a casa non ho voluto provare uno ma l'ha svolta cioè bellissimi costano un po' 4 euro circa però fanno sempre le offerte quindi appunto per chi ha un CAD vicino mercoledì cominciano le offerte su tantissimi prodotti e in particolare se qualcuno è affezionato a questo tipo di prodotto non ricordo il prezzo ma ce ne sono dei pacchetti da 4 ok quindi c'era scritto 39 assorbenti una roba del genere comunque comodissimi io infatti questo l'ho presa al Conatma al CAD ci tornerò per riprenderne altri poi come vi ho fatto vedere classicissimi Tampax non mi so fermerò su di loro questo in realtà è un intruso perchè l'ha preso mia sorella io non utilizzo marche diciamo commerciali vi ho fatto già vedere che uso cose da farmacia anche questo l'ho venduto in farmacia però non mi piace su di me quindi niente questo è suo non mi sottermerò su di lui gli schetti di cotone classici questi del Conat carini perchè sono fatti bene quindi c'è un po' cosa dire insomma dei cotoncini normali questi qua ne ho presi due no praticamente per l'igiene dentale e questi solitamente io li pago quasi 4 euro di Coom e il modo più facile di usare in fine del dettale praticamente sono monouso così si utilizza io mi trovo stra bene poi hanno anche la menta quindi proprio rendono il tutto ancora più bello e gradevole e niente volendo c'è anche per portarseli in viaggio quindi la custodio comunque per metterne lì alcuni di avere pronti all'uso e oggi a Conat li ho pagati 1,90€ quindi li ho presi due non volevo fare l'esagerata sto prendendo nei tre ma veramente questi io li adoro li uso sempre e se non li utilizzate ve li consiglio perché vedrete veramente la differenza o sarà io che sono fissata? non lo so mi piacciono mi piacciono un sacco i suoni tipo stighi così quindi due di questi poi lui qui allora come ho già detto e appunto l'ho visto da lei e quindi io lo compro io non lo voglio sbattere troppo comunque le cuffiette oggi mi stanno uscendo da tutte le parti qui e amici resistete abbiamo qua definito ho comprato questo parodontax quindi dentifrigio per dice gengive io ho le gengive sensibili però oltre vabbè quello che c'è scritto io questo lo provai una volta e ragazzi questo lava benissimo perché se non sbaglio ha molto fluoro dentro comunque questo mi dà proprio una sensazione di lavato pulito appunto e quindi nulla lo ricompro questo lo ricompro sempre e l'unica cosa costa un gioco cioè qualche centesimo a 5 euro quindi però ne vale la pena poi salva slip di questa tipologia qua praticamente che hanno la che hanno la plastica perché sono molto comodi rispetto a quelli che hanno soltanto l'affare dentro la scatola ecco così se me li voglio portare in giro me li porto e basta questi appunto questi appunto sono 40 della l'ines su questi non lo so li uso da anni però ogni volta che c'è tipo usarli con parsimonia ok quindi però non li avevo più quindi li ho comprati poi finalmente è ultimo prodotto spero che questo video non vi abbia annoiato lui l'ho ricomprato amici ve lo avevo ve lo avevo già mostrato questo qua è lo shampoo di Conat purificante che costa nemmeno 2 euro lascia i capelli una meraviglia quindi decisamente questo è molto straconsigliato ma soprattutto perché per il prezzo lo potresti provare insomma soffrite di cute grass eccetera ma questo veramente è molto molto buono e niente questo veramente ve lo consiglio un sacchissimo poi ha anche un buon profumo è tanto comunque e poi trovo che abbia anche una confezione abbastanza comoda e basta questo era l'ultimo prodotto bene amici io credo di avervi mostrato tutto quello che ho acquistato non so se ho lasciato qualcosa comunque ecco erano cose che mi servivano così mi giustifico sempre e niente spero che questo video vi abbia incuriosito su qualche prodotto che magari vorreste provare o comunque vi abbia tenuto compagnia vi sia piaciuto e niente fatemi sapere se c'è qualche prodotto che appunto vi ha incuriosito e quindi vorreste sapere a lungo andare come mi ci trovo insomma fatemi sapere e e niente amici io vi mando come sempre un grandissimo bacio vi ringrazio per aver guardato questo video vi mando un grande bacio che vi mando un po' che vi mando un po'